Sono passati alcuni anni da quando si è conclusa la saga di Harry Potter e il cambiamento fisico dei protagonisti è particolarmente evidente, visto che parliamo di ragazzi che sono letteralmente cresciuti interpretando i personaggi. A fare particolarmente scalpore è quello di Afshan Zad, attrice inglese di origine bangladese, nota per aver dato il volto a Padma Patil, che nel film Harry Potter e il calice di fuoco accompagnava insieme alla sorella gemella Kali, Harry e Ron al famoso ballo del ceppo. I fan di Harry la ricorderanno così, una ragazza graziosa dalla carnagione scura e il volto rotondo. Odi Afshan, 27 anni, è diventata una donna bellissima, molto seguita ed apprezzata sui social, dove tra l'altro detta legge in fatto di moda, grazie ai suoi look. Il suo profilo Twitter vanta più di 45.000 follower ed ancora qualcuno si meraviglia che la piccola Padma Patil si sia trasformata in una donna di tale bellezza. Grazie a tutti!